Perché il sindaco di Patti Mauro Aquino non interviene a sostegno dell'avvertenza dei commercianti di Tindari? Questa è la richiesta del Movimento Siciliani Liberi di Patti. Il movimento, su iniziativa del suo referente Enzo Natoli, ha preso spunto dall'iniziativa del sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, che è intervenuto a sostegno dei suoi concittadini, titolari di attività commerciali sul colle di Tindari. Ha scritto una lettera al presidente della regione, Nello Musumeci, chiedendo di dare la possibilità ai commercianti di aprire la domenica, giorni in cui sono numerosi fedeli ai turisti che si recano a Tindari, permettendo loro di recuperare i danni causati dal periodo di lockdown, visto che al momento dei giorni festivi è tutto chiuso. Il sindaco di Patti Mauro Aquino si attiverà in questa direzione perché non sosteniamo le stanze del nostro territorio, dei nostri commercianti e della nostra economia, ha scritto Enzo Natoli, valorizzando ulteriormente quella che dovrebbe essere la punta di diamante del nostro turismo, una delle località del comune di Patti che è famosa in tutto il mondo. Natoli ha ricordato inoltre come su Facebook alcuni giorni fa si sia levato forte il grido di disperazione di un commerciante di Tindari, interpretando il sentimento di che opera sul colle della Madonna Nera. Ha ricordato come gli unici giorni che permettano loro di lavorare siano i festivi e le domeniche. Abbandonati a loro stessi, ora che è iniziata la fase 2 e si può iniziare nuovamente a lavorare, con tutte le precauzioni del caso, sussiste anche il paradosso che possono aprire le loro botteghe solo nei giorni feriali, cioè quando nessuno e un poca gente viene a Tindari. Hanno chiesto a gran voce perché non possiamo lavorare di domenica e nei giorni festivi. A questo punto facciamo un invito al sindaco Quino, ha concluso Enzo Natoli, perché si faccia interprete delle esigenze dei commercianti pattesi di Tindari e solleciti anche lui la regione affinché possano aprire anche di domenica e nei giorni festivi.